Betificazione e canonizzazione del pontificato. Lo stesso argomento di dettaglio, betificazione del pontificato di Clemente XIII e canonizzazione del pontificato di Clemente XIII. Lo stesso argomento dell'enciclica di Clemente XIII, 1758-1769. Papa Clemente XIII, donnuante il suo pontificato, ha scritto sei encicliche. Generologia Episcopale e Successione Apostolica. Papa Benedetto XIV, Papa Clemente XIII. La successione apostolica è... Arcivescovo Domenico Monti, 1750. Vescovo Pellegrino Ferri, 1750. Vescovo Gianalberto De Grandi, CRL, 1750. Vescovo Antoni Czev de Alexio, OFM, 1750. Vescovo Giovanni Maria Castelvetri, 1750. Vescovo Marco Antonio Lombardi, 1751. Vescovo Jean-Baptiste Marie Champion de Cicer, 1758. Cardinale Enrico Manetto Stuart, 1758. Vescovo Marco Giuseppe Cornaro, 1759. Cardinale Antonio Maria Erbao del Scalchi, 1759. Cardinale Ludovico Valenti, 1759. Patriarca Filippo Joseph Carucci, 1760. Arcivescovo Giuseppe Locatelli, 1760. Cardinale Francesco Carafa della Spina di Traetto, 1760. Cardinale Pietro Colonna Panfili, 1760. Arcivescovo Cesare Alberico Lucini, 1760. Cardinale Antonio Eugenio Visconti, 1760. Cardinale Giovanni Francesco Albani, 1760. Cardinale Giovanni Carlo Boschi, 1760. Arcivescovo Giovanni Lercari, 1760. Vescovo Benedetto Mattei, 1760. Vescovo Gioacchino Martia Pontalti O'Carm, 1762. Cardinale Marco Antonio Colonna, 1762. Vescovo Antonio Ripanti, 1762. Vescovo Gian Antonio Gradinigo, Gian Agostino Gradinigo, OSB, 1762. Cardinale Tommaso Maria Ghillini, 1663. Arcivescovo Gian Battista Colombini, 1664. Cardinale Rubano Operacini Rutili, 1664. Cardinale Luigi Valenti Gonzaga, 1664. Vescovo Giovanni De Vita, 1664. Vescovo Giovanni Battista Bugiasca, 1664. Cardinale Guido Calcagnini, 1665. Cardinale Filippo Maria Pirelli, 1665. Vescovo Salvatore Andreini, 1665. Arcivescovo Giovanni Gironoma Grandinigo, CR, 1666. Vescovo Arnaldo Speroni degli Alvarotti, OSB, 1666. Vescovo Alessandro Pisani, 1666. Arcivesco Gnazzo Reali, 1666. Arcivesco Michel Angelus Giacomelli, 1766. Cardinale Giovanni Battista Caprara Montecuccoli, 1766. Cardinale Giovanni Archita, 1766. Archinto, 1766. Cardinale Angelo Maria Durini, 1766. Cardinale Francesco Saverio De Zelada, 1766. Vesco Olivier Simon de Le Bon, Meppo, 1666. Cardinale Bernardino Giroux, 1767. Vescovo Giovanni Nani, 1767. Arcivesco Orazio Mattei, 1767. Arcivesco Giuseppe Maria Contesini, 1768. Onoreficenze. Gran Maestro dell'Ordine Supremo del Cristo. Notte. Clemente XII, enciclopedia dei Papi. Claudio Rendina, primi papi, storia dei sigaretti, 735 pagine. Lettere prima, pagine 355, estratto di Clemente XII, enciclopedia Taccani. Franco Savelli, il meridione d'Italia Borbone di fine settecento. Guido Sommanbilla, della Compagnia di Gesù Milano, Rizzoli 1985, pagine 53-355. L'Abbaziale Secoli, su Abbaziano Montola, url, consultato il 20 marzo 2017. L'attività monastica fu restaurata da Pio VII, 1800-1823. Antoniani, su Treccani, url, consultato il 22 marzo 2017. Filosofia e politica del pensiero di Giovanni Cristoforo Amaduzzi, su George CTS, US World, consultato il 20 marzo 2017. Febbronio, firmò la prima ritrattazione nel 1778 davanti ai nunzi di Cologna-Vienna. Gaetano Moroni, OPT-CT. Apostolicus Treccani, url, consultato il 22 marzo 2017. Gaetano Moroni, inizionario di tradizione storico-ecclesiastica di San Pietro, sui giorni nostri, 1941, volume XVI. Papa Clemente III, XIII, in santi e beati testimoni, enciclopedia dei santi e beati. Clemente III, Carlo Rezzonico, sui informa, Roma et, url, consultato il 22 marzo 2017. Museo Profano, sui musei vaticani, url, consultato il 22 marzo 2017. Luigi Caini e Anna Fuo, enciclopedia dei papi 2000, Treccani. Praticamente nulla vede a dire sull'attività artistica, roba sotto C. Egli del resto viene ricordato come un mecenate. Non come un mecenate, ma per aver fatto coprire la nudità dell'estate del Vaticano. Giorgio Baffo, Feste erotiche, sonetti, canzoni, madrigali, a cure di Elio Bartolini, Milano, Baldini, Gastoldi, Dalai, 2005, pagina 131. Travolto dal suo rigorismo prude, Clemente XIII si può ordinare una sorta di evitazione dei nudi della statua classica e di quelli affrescati nelle pareti della Cappella Sistina, meritandosi l'impietosa quanta precisa definizione di Papa Braghettone. Di Giorgio Baffo si vedono anche i sonetti in lingua veneziana. Cosa fa tanta gente col mantello e i successivi? Grazie a tutti. 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 Pio Paschini, Clemente Xesimo, Papa in Encyclopedia Italiana del 1931, Clemente Xesimo, Indizionario di Storia in Encyclopedia Italiana del 2010, Clemente Xesimo su Sapere di Agostini, Clemente Xesimo su Encyclopedia Britannica, Encyclopedia Britannica e Inco, Papa Clemente Xesimo su Beweb, Conferenza Episcopale Italiana, N. Opre di Papa Clemente Xesimo su Open Library Internet Archive, Papa Clemente Xesimo in Encyclopedia Robert Uppleton Company, David M. Chemie Paiva Clemente Xesimo in Cattolica Hierarchy, Cardinali nominato da Papa Clemente Xesimo su Araldica Vaticana. E'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o Grazie a tutti.